È possibile dirlo solo da pochi minuti, ma in sostanza ecco come si materializzeranno i famosi 80 euro in più nella busta paga della classe media italiana. Le chiamano coperture, sono numeri. Una volta tanto sembrano avere però un po' più di anima. Il primo, 6,7 miliardi di euro le famose coperture, sia permessa almeno una di slide, semplice. Circa 4 miliardi e mezzo di euro arrivano dai tagli di spesa. 2,2 parte dall'IVA, che lo Stato incassa pagando i suoi fornitori, e parte da una sorpresa sulle banche. per la rivalutazione delle quote di Banca Italia. Aveva creato non poco malumore quel cosiddetto regalo, la rivalutazione per cui gli istituti avevano versato si tasse, ma la metà del previsto dai piani iniziali. Ora quella rendita, perché poi questo è, verrà tassata al 26%, non più al 12, in casso previsto quindi almeno un miliardo di euro. Quel 26%, peraltro cifra importante, definisce infatti l'aliquota del fisco sulle rendite finanziarie. Era già noto che sarebbe stato così per i piccoli risparmiatori, lo sarà anche per i grandi investitori. Mossa necessaria perché è così che il governo troverà le risorse per ridurre l'IRAP del 10%, l'odiata tassa sulle attività produttive, vecchio cavallo di battaglia che oggi pare abbia trovato qualcuno in grado di salirci davvero. Ma perché 6 miliardi e non 10 miliardi a 10 milioni di italiani? Perché iniziando l'inizione di liquidità in busta a maggio, questi basteranno piuttosto i tagli di spesa. 32 miliardi fra tre anni, in regime il contenuto è vario. Ci saranno i tagli alle municipalizzate, si razionalizzano gli acquisti, magari anche nella sanità. Ticket salvi, tutti tranquilli, ma arrivano i costi standard. Se una cosa costa X, non può essere acquistata a Y. Paduan la chiama sforzo per la semplificazione e vede misure permanenti, soprattutto per i pagamenti dei debiti futuri. Manager pubblici, figuriamoci se non ce l'è anche per loro, il tetto è confermato. Nessuno mai sopra lo stipendio del capo dello Stato, 239 mila euro, sul taglio degli enti inutili inaugurato dal CNEL. Anche qui si dovrebbe procedere dritti, ci saranno risparmi. Breve statistica, già nota, nel 2014 PIL più 0,8%, deficit PIL al 2,6%. Pareggio strutturale nel 2015. Quanto al disbrigo delle pratiche con l'Europa, il DEF annuncia riforme. In cambio potrebbero forse significare quei 3-4 miliardi di clausola per gli investimenti, sbloccabili se Bruxelles crede alla svolta. Paduan, forte e chiaro, dice, noi i compiti li abbiamo fatti.